Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi avevo voglia di fare un book tag. Mi ho trovato uno carino su YouTube, quindi ho deciso di riproporlo. Si chiama Anti-TBR Book Tag. E adesso vi spiego di cosa si tratta. Prima di tutto il mio babbo mi dice sempre che non specifico il significato di certe parole che si conoscono, diciamo, sono più conosciute su YouTube o nel mondo dei libri. Quindi TBR, Wrap Up, ma anche Decluttering. Quindi insomma spiego in due parole che cosa significa. Allora TBR è una sigla che sta per un elenco di libri che devono ancora essere letti. Solitamente si utilizza per raccontare quali sono i libri che attendono di essere letti sulla nostra libreria oppure per un buon proposito, cioè magari elenchiamo una serie di libri che vorremmo terminare in un certo periodo di tempo. Io ad esempio molto spesso lo faccio in autunno, quindi faccio un elenco dei libri che ancora devo leggere e che voglio terminare prima di Natale. Quindi insomma questo per farvi capire. Ma questo book tag è un Anti-TBR, quindi in realtà parliamo di libri che non voglio leggere. Non sarà un video lunghissimo, mi auguro, anche perché le domande sono poche. In ogni caso io ve le lascio sotto nell'info box e così anche voi potete darmi le vostre risposte e lasciarmele nei commenti. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Domanda numero 1. Un libro classico o un autore che non sei interessato a leggere? Per questa domanda ho deciso di rispondere con le sorelle Bronte, Bronti? Non so come si pronunci. Comunque super apprezzate ovviamente, perché appunto appartenenti ormai a quelle autrici che non smetteranno mai di essere lette, ma che io proprio non ho interesse a leggere o comunque ad approfondire. Questo perché se seguite i miei video da tanto tempo sapete che ho provato a leggere Cime Tempestose e non mi è piaciuto affatto, tanto che non l'ho terminato. Quindi di conseguenza non sono invogliata a leggere altro. Non sono una grandissima amante dei classici, nel senso che non sono un genere che riesce a prendermi davvero, che forse riesco a comprendere davvero, quindi ne ho letti veramente pochi. e diciamo che già appunto leggo pochi classici, non sono interessata a leggere qualcosa che credo già prima di aprire il libro non riuscirà a catturarmi appieno. Non odiatemi per questo, quindi diamo spazio ai commenti della vergogna quali sono quei libri, quegli autori classici che voi non avete intenzione di leggere. Domanda numero due. Un libro molto popolare che tutti amano ma che tu non sei interessato a leggere. Per questa domanda rispondo con la serie delle sette sorelle o comunque qualsiasi cosa sia scritta da Lucinda Riley. Questo perché con il nostro club del libro, tanto tempo fa abbiamo letto un libro di Lucinda Riley e quel libro era stato per me un'agonia, nel senso che non mi era piaciuto per niente, l'avevo trovato banalissimo e anche scritto male. Opinione condivisa oltretutto dagli altri membri del club, però diciamo ho preso in considerazione l'ipotesi che potesse essere un'eccezione e che magari altri libri di questa autrice invece siano davvero molto belli. Anche perché la serie delle sette sorelle ha fatto un grandissimo successo e non sono sicura neppure se sia terminato o no, credo di sì. Comunque l'uscita di ogni nuovo libro di solito era attesa febbrilmente da tante persone, da tanti lettori. Però appunto io non ho nessun interesse a leggerla perché ormai l'autrice ha avuto un brutto impatto con me e quindi non sono invogliata ad acquistare altri suoi libri e a leggere questa serie nonostante sia molto popolare. Domanda numero 3. Un genere al quale non sei interessato o che hai provato a leggere ma non l'ha fatto per te? Per questa domanda rispondo con il fantasy. Chiaramente non leggo tutti i generi, quindi ci sono per esempio la saggistica, non è un genere che leggo molto, però ecco diciamo che quello che rappresenta meglio la risposta a questa domanda è il genere fantasy. È un genere che tendenzialmente non mi interessa, quindi le uscite fantasy non sono qualcosa che suscita la mia curiosità. Questo ovviamente non perché tutti i libri fantasy siano brutti, anzi perché ovviamente qualcuno nella mia vita l'ho letto, ma proprio perché non è di mio gusto. Quindi non sono storie che di solito riescono a appassionarmi, a farmi immergere davvero in quello che viene raccontato. Quindi è un genere che ogni tanto ritorna nelle mie letture perché ci provo ecco a trovare qualcosa che possa interessarmi, però quasi sempre rimango delusa. Quindi è il genere che probabilmente mi rappresenta meno e che non so, si avvicina un po' meno ai miei gusti. Per questa domanda chiaramente ho un libro qui con me perché appunto parliamo di qualcosa che ho già comprato e sto parlando di tutti i racconti di Arthur Conan Doyle, tutti i racconti chiaramente su Sherlock Holmes. Questo perché? Perché il libro è gigantesco, e quindi l'ho iniziato, ma avrò letto, non lo so, tre racconti, quattro racconti e poi non ho mai avuto il coraggio di riprenderlo in mano. Il mio problema è che dovrei mettermi in testa di leggerlo piano piano, cioè leggere magari uno o due racconti a settimana, perché alla fine nessuno mi corre dietro, ma io sono, non lo so, non riesco a fare così e quindi nel momento in cui lo prendo in mano lo vorrei finire. E so che ci vorrebbe davvero troppo tempo perché è veramente gigantesco, non so se rendi l'idea in confronto alla mia testa e quindi è sulla libreria paura che non lo leggerò mai. Però potrebbe essere un buon proposito per il prossimo anno, ci penserò, e per l'appunto leggere, leggerlo lentamente insieme ad altri libri in modo da non sentire la pressione e riuscire finalmente a leggere tutti i racconti, anche perché io adoro Sherlock Holmes. Però per il momento questo era il libro che rispondeva meglio alla domanda. Domanda numero 5. Una serie che non ha intenzione di leggere o una serie che ha iniziato ma che non ha intenzione di terminare? Non nominerò una serie che non ho intenzione di leggere perché semplicemente al momento non me ne viene in mente nessuna. L'unica che mi viene in mente è Trono di Spade, che mi piacerebbe leggere ma non ho mai letto, però ecco in realtà penso che potrei leggerla un giorno magari, non lo so, quindi non la voglio mettere in questa domanda, quindi risponderò alla seconda parte, ovvero una serie che ho iniziato ma che non ho intenzione di terminare. E sto parlando della saga dei Casalè che è una tetralogia, credo. Ho letto il primo volume però non mi è piaciuto affatto, nel senso che l'ho trovato molto 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 noioso, molto pesante, non succedeva niente quindi non avevo mai voglia di leggerlo. Lo so, chi ha letto questa serie mi dice spesso di proseguire, andare avanti perché i numeri successivi sono migliori, però qualcuno mi ha addirittura detto che la parte migliore è probabilmente il terzo e io di leggere un altro volume alto così che non mi appassiona, non me la sento. E quindi quella è una serie, avevo il primo libro addirittura l'ho venduto, ho regalato, non lo so, non ce l'ho più perché non ho intenzione di andare avanti. Domanda numero 6, una nuova uscita che non ha intenzione di leggere. Allora io non sono particolarmente ferrata sulle ultime uscite perché sì, seguo tanti booktuber però tendenzialmente insomma parlano di libri che stanno leggendo, che hanno letto e non necessariamente sono appena usciti e poi quando vado in libreria io scelgo un po', mi faccio guidare un po' dal cuore quindi non tanto dalle ultime uscite. Però abbiamo avuto da poco la riunione del club del libro e è stato nominato un titolo che è uscito veramente pochi giorni fa ovvero Fairy Tale di Stephen King quindi l'ultimo libro l'ultima uscita di Stephen King. Abbiamo letto la trama ovviamente la tematica era horror per i insomma i libri che dovevamo scegliere per il club per l'appunto lo capite dal fatto che era presente il nostro King nella lista e appunto abbiamo letto anche la trama quindi mi sono un po' informata e devo dire la verità nonostante King sia un autore eccezionale questo non lo nego anche perché ho letto altri libri scritti da lui questo in particolare non mi interessa perché è un horror misto fantasy cosa che si ritrova spesso anche nei suoi libri e in questo momento non è qualcosa che ho voglia di leggere non è un argomento che mi interessa particolarmente quindi questo è un titolo che è uscito da poco ma che non ho voglia di leggere non ho intenzione di leggere bene ragazzi il video finisce qui come vi ho detto erano poche domande quindi fatemi sapere le vostre risposte ma soprattutto ricordiamoci che non c'è assolutamente nessun problema nel decidere di non leggere qualcosa anche se è un classico anche se è uscito da poco o anche se è amato da tutti perché la vita è troppo breve per sprecarla tra virgolette con delle letture che non ci appassionano e non ci piacciono e che leggiamo forzatamente quindi insomma niente sensi di colpa sentiamoci liberi di chiudere un libro quando questo non ci piace e andiamo avanti con qualcosa che invece amiamo aspetto le risposte alle domande nei commenti noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao 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 Grazie a tutti.